benvenuti nel nostro entusiasmante viaggio attraverso i tesori naturali d'italia in questo video vi porteremo alla scoperta dei dieci laghi più belli del paese dove la bellezza incontra la serenità e la maestosità si fonde con la tranquillità dalle acque cristalline ai panorami mozzafiato ogni lago ci accoglierà con la sua unica magia e ci regalerà momenti di meraviglia e stupore ogni lago ha la sua storia da raccontare i suoi tesori da svelare quindi preparate la vostra anima avventurosa e lasciatevi trasportare in questo viaggio di scoperta mentre vi mostriamo i laghi più belli d'italia prima di cominciare se il video dovesse piacervi lasciate un like ed iscrivetevi al canale per aiutarci a migliorare sempre più la qualità dei nostri contenuti cominciamo ecco la nostra personale top 10 sui laghi più belli d'italia il lago di resia è un gioiello delle alpi italiane caratterizzato da acque cristalline e circondato da maestose montagne la sua attrazione più iconica è la torre campanaria che emerge dal lago un simbolo affascinante del paese sommerso di curon venosta passeggiare lungo le rive di questo lago incantevole regala panorami mozzafiato e un senso di tranquillità gli amanti delle attività all'aperto troveranno qui una vasta gamma di opzioni dalle escursioni agli sport acquatici come il windsurf scoprire il lago di resia significa immergersi nella bellezza naturale e nella storia affascinante questo luogo incantevole con le sue acque scintillanti e la torre campanaria come simbolo enigmatico vi lascerà un'impressione indelebile il lago di braies incastonato tra le imponenti dolomiti italiane è una perla di rara bellezza le sue acque turchesi e cristalline riflettono il maestoso panorama montano circostante creando un'atmosfera di tranquillità e meraviglia le rive del lago invitano a piacevoli passeggiate permettendo di ammirare da vicino la sua bellezza senza tempo le barche a remi offrono la possibilità di esplorare il lago godendo della vista panoramica delle montagne i sentieri escursionistici che circondano il lago conducono a panorami spettacolari e permettono di immergersi nella natura incontaminata delle dolomiti il lago di braies è un luogo che affascina i sensi e dona una sensazione di pace e serenità il lago di bracciano situato a pochi chilometri da roma è una meraviglia naturale che incanta con la sua bellezza serena con le sue acque azzurre e limpide circondate da colline verdi e boschi lussureggianti il lago offre un panorama nozzafiato le sue rive invitano a piacevoli passeggiate e momenti di relax mentre le spiagge di sabbia offrono un luogo perfetto per prendere il sole e godersi il fresco delle acque oltre alla sua bellezza naturale il lago ospita anche una delle più belle testimonianze storiche della regione il castello de scalchi questo imponente castello affacciato sulle acque del lago offre una vista panoramica spettacolare e rappresenta un'importante attrazione per i visitatori il lago offre la combinazione perfetta di natura storia e attività ricreative permettendo ai visitatori di rilassarsi rigenerarsi e godere di un'esperienza indimenticabile il lago d'orta situato nelle alpi italiane è una gemma nascosta di incredibile bellezza con le sue acque tranquille e cristalline circondate da colline verdi e pittoreschi borghi il lago offre un'atmosfera di serenità e incanto le sue rive invitano a tranquille passeggiate mentre le montagne che lo circondano creano un suggestivo scenario naturale l'isola di san giulio al centro del lago è una delle principali attrazioni con la sua antica abbazia benedettina e le stradine acciottolate l'isola regala un senso di magia e spiritualità una visita a questa piccola isola è un viaggio nel tempo il lago d'orta è anche noto per i suoi romantici borghi come orta san giulio con le sue case colorate e le stradine lastricate questi pittoreschi centri storici offrono un'atmosfera unica e autentica ideale per una passeggiata romantica o una cena in un ristorante tipico il lago d'orta rappresenta una vera oasi di pace e tranquillità lontano dalla folla e dal turismo di massa il lago di seo situato in lombardia è una perla nascosta che offre una bellezza senza tempo con le sue acque scintillanti e i paesaggi mozzafiato il lago incanta i visitatori con il suo fascino sereno le sue rive sono punteggiate da graziosi borghi e pittoreschi villaggi che aggiungono un tocco di autenticità e tradizione l'isola di monte isola la più grande isola lacustre d'europa è una delle principali attrazioni del lago di seo con le sue strade tranquille e il caratteristico borgo di pescatori l'isola offre un'esperienza autentica e rilassante il lago è un luogo ideale da esplorare a piedi o in bicicletta immergendosi nella natura e godendo di panorami spettacolari con la sua atmosfera tranquilla e autentica il lago di seo offre una fuga rilassante dal trambusto della vita quotidiana il lago trasimeno situato in umbria è una meraviglia naturale di straordinaria bellezza con le sue acque serenamente blu e le dolci colline che lo circondano il lago offre un'atmosfera di tranquillità e incanto le sue rive accoglienti sono perfette per rilassanti passeggiate e momenti di contemplazione numerose spiagge e stabilimenti balneari offrono la possibilità di godersi il sole e fare un tuffo nelle sue acque cristalline l'isola maggiore una delle tre isole presenti nel lago è un luogo incantevole da esplorare con i suoi sentieri panoramici gli uliveti secolari e il suggestivo borgo l'isola regala un'esperienza autentica e affascinante il lago trasimeno è anche noto per la sua ricca storia e cultura sulle sue rive si trovano antichi insediamenti etruschi e romanici testimonianze di un passato affascinante il lago trasimeno offre una connessione autentica con la natura e la storia regalando un'esperienza indimenticabile di serenità e bellezza il lago maggiore situato tra italia e svizzera è una meraviglia naturale di straordinaria grandezza e bellezza con le sue acque azzurre che si estendono per chilometri e le maestose montagne che lo circondano il lago offre un panorama mozzafiato le sue rive sono punteggiate da incantevoli ville giardini e borghi pittoreschi creando un'atmosfera di fascino e romanticismo le isole borromee un gruppo di isole al centro del lago sono una delle principali attrazioni con i loro palazzi giardini e viste panoramiche offrono una sensazione di magia e raffinatezza questo luogo straordinario incanta i visitatori con la sua bellezza senza tempo e la sua atmosfera unica offre una combinazione perfetta di paesaggi spettacolari cultura e relax garantendo un'esperienza indimenticabile per chiunque lo visiti il lago di como situato nella regione italiana della lombardia è un gioiello incantevole che affascina con la sua bellezza senza pari con le sue acque azzurre che si estendono tra le maestose montagne il lago offre un panorama mozzafiato che ha ispirato poeti artisti e viaggiatori di tutto il mondo le sue rive sono orlate da pittoreschi borghi lussureggianti giardini e sontuose ville storiche creando un'atmosfera di eleganza e raffinatezza il lago di como è anche un paradiso per gli amanti degli sport acquatici come la vela e il windsurf le brezze fresche che soffiano sul lago creano condizioni ideali per praticare queste attività le montagne che circondano il lago offrono spettacolari sentieri escursionistici e panorami mozzafiato il lago di como rappresenta l'eleganza e la serenità italiana regalando un'esperienza indimenticabile a chiunque lo il lago di garda situato tra le regioni italiane di lombardia veneto e trentino alto adige è un'immensa meraviglia che cattura l'immaginazione con la sua bellezza mozzafiato con le sue acque cristalline che si estendono per oltre 50 chilometri il lago è il più grande d'italia e offre una varietà di paesaggi spettacolari le sue rive sono punteggiate da pittoreschi borghi incantevoli spiagge e porticcioli affascinanti che offrono un'atmosfera di relax e divertimento è un vero paradiso per gli amanti degli sport acquatici come la vela il windsurf e il kitesurf le condizioni favorevoli del vento e le acque calme creano un ambiente ideale per praticare queste attività le montagne che circondano il lago offrono panorami spettacolari e possibilità di escursioni e sport all'aria aperta i sentieri escursionistici e le vie ferrate attirano gli amanti della natura e gli avventurieri questo luogo affascinante è un oasi di relax avventura e cultura offrendo una combinazione unica di paesaggi mozzafiato attività ricreative e autenticità italiana per ora il nostro viaggio termina qui se il video vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al canale a voi non costa nulla per noi è molto importante seguiteci nei prossimi video per conoscere tante altre località suggestive e ed emozionanti